Che che? Capisce? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Dunque come vedete qua dietro c'è il mio super calico da battaglia E oggi andremo a pescare i cavedani top water Ma soprattutto una sorpresa che mi fa tremare ancora le gambe Mi raccomando ragazzi in questo video tutte le catture saranno con questa esca qui Che è lo speedx della Tubertini misura 90 Tutte le catture con questo top water attacchi pazzeschi E soprattutto mi raccomando ragazzi guardate il video fino alla fine che ho fatto un pesce a top water Che fa paura Mi raccomando ragazzi quindi superiamo i 140 mi piace per questo video Dunque mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Mi raccomando ragazzi guardate fino alla fine e lasciate tanti tanti mi piace Via con il video! Mi raccomando ragazzi guardate il video! Ciao! Ciao! Sugi! S habt A Pangeز Grazie a tutti. Porca troia che cavedano e che attacco. Preso, 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 con lo Speedex, tu Bertini, sei qua? Dietro, 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 bel pesce, bel pesce, bel pesce, assolutamente. Guardate qua che bel pesciazzo che ha attaccato. Ok, guadagniamolo. Ok. Boom, baby. M'ha stufato e l'acqua è bella fredda. Ok, rilasciamolo. Opla, chi se ne torna a casa? Ok. 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 Porca troia l'aveva anche preso. Ho sbagliato io a Ferrari. Preso. Preso. No. Come si è slamato. Avete visto? Ho saltato fuori. Si è slamato e l'ho saltato fuori. Non ho ferrato abbastanza forte. No, ce l'aveva. Perché ho visto l'ha cacciato, ho detto. Non gli ha dato subito. Glielo muovo ma se l'aveva già in bocca. Sono stato un po' c***o perché l'ho sentito in canna e non ho ferrato. Preso. Eh, stavolta non mi ha fregato. Stavolta non mi ha fregato. Ero preparato. Bel pesce. Bel pesce. Bel pesce. L'ha lamato proprio in punta. Gli ha dato giusto quando è caduto. Eccolo qua. Via. Vai. Torna. Ciao. Ci rivediamo. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, cazzo, quello era un bel pesce, eh. Ragazzi, avete visto che razza di pescione? Oh, porca troia, porca troia. Uh, è dietro, vai, ce l'ho. Avete visto che attacco? Completamente a vista. Allora, pesciolino, guardate qua, preso perfetto, vediamo, no, non riesco a slamarlo così. Allora, vediamo un attimo, lo svaniamo, velocemente, pesciolino, niente di eccezionale. Eccolo qua. Dai. Partito come un fulmine. Come la sua mangiata. Preso. Appena ha mangiato. Appena, sì, ha toccato appena... Ha mangiato appena ha toccato l'acqua. Wow, ce l'ho fatta. Guardate, un altro bel cavedano. No, questa è più piccolina. Si va come l'altro. Questo ha mangiato bene, bene. Ecco qua. Vai, sei libero. E un altro pesce è andato. Appena ha toccato l'acqua, lo speedx, boom, esplosione. A galla. Avete visto l'esplosione? Eccolo qua. Piccolino. Piccolino. Guardate. Qua. Vai. Ciao. Pure i più piccoli. Pure i più piccoli riesce ad attirare quest'esca. Cioè, era poco più grande di lui, quel che vedano. Poco più grande dell'esca. Dello speedx. Qua sono un pochino troppo sotto. preso, 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 preso. Bel pesciotto. Oh, tira. Guardatelo. Questo è belloccio. Questo è veramente belloccio. Tira anche. Tira, tira. Guardate qua. Altro che vedono with speedx. Liberiamolo e via. Vai. Torca troia. Ho visto l'attacco, ho ferrato. Perché non ho mai imparato che gli danno subito e bisogna ferrarli immediatamente. Eccolo. Preso. Super ferrato, avete visto? No, sei slamato. Eccolo. Cavolo. È mancata. Preso. Preso, 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 preso. Preso. Preso, preso, preso. Bisogna andare in retro. Preso. Preso. Guardate come ho mangiato. Preso. Eccolo qua. Ciao, ciao. la piavante ho visto un'esplosione bel pesce bel pesce bel pesce questo è bello grosso eh raga questa è una canna da casting da bassa è un bel pesce questo è grosso eh ho paura che sia una spigola eh ho paura che sia una spigola la sta piegando guardate che pesce spigola si boom spigola con lo speedx boom baby boom baby guadagniamola guadagniamola si 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 boom baby spigola si ragazzi si me lo sentivo me lo sentivo top water me lo sentivo si si ragazzi guardate con lo speedx presa perfetta oh my god ragazzi scusate contro lui c'è che è l'unico posto dove sono riuscito a fermarmi mamma seica non delude mai con lo speedx 90 90 in un posto in cui me la sentivo che c'era la spigola dalle cazzate ecco a voi la regina a speedx no buon ma 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 Sì Sì